Una sosta forzata nel momento migliore della stagione. Così la Nottorini-Capanuri ha giocato l'ultima partita lo scorso 27 marzo, più di un mese fa, contro l'Aquiterna e Palapiaggia, peraltro vincendo 3-0. Poi è entrato in scena il Covid-19 e lo ha fatto purtroppo in modo anche pesante, dove si consideri che sono state colpite diverse giocatrici del roster bianconero. Da sottolineare che negli ultimi giorni per fortuna quasi tutte si sono negativizzate e quindi si spera da questa settimana potranno riprendere a lavorare in gruppo agli ordini di coach Stefano Capponi. Un incidente di percorso che davvero non ci voleva. La Nottoline è stata protagonista di un magnifico campionato, seppur ridotto ad un gironcino di 6 squadre con gare di andate a ritorno, che è andato al di là di ogni più rosa aspettativa. Francamente, almeno sulla carta, poi per fortuna con tal campo, c'erano almeno tre squadre superiori a quella capannorese, ma giornata dopo giornata Roni e compagni hanno dimostrato la loro forza e la loro tenacia, riuscendo a conseguire risultati e vittorie davvero strepitosi, che alla fine sono valsi secondo posto nella classifica. Un piazzamento che significa andare a giocare di spareggi per la promozione in A2, ma è successo prima. Il secondo posto vuol dire incrociare la terza dell'altro girone del nord-ovest, ovvero la Igor Novara. Quella piemontese è con pagine toste di buona levatura tecnica, che però ci permettiamo di dire alla portata della Nottolini, di questa Nottolini. Tutto ciò sperando che l'intoppo e la sosta forzata di oltre un mese non portino complicazioni al momento imprevedibili. Ricordiamo che la gara di andata dei quarti di finale del play-off si giocherà sabato 15 maggio sul campo del Novara, e ritorna una settimana più tardi, il 22, alla palapiaggia. In caso di parità al termine di gara 2, ovvero anche nella differenza set, si giocherà un set supplementare per stabilire la squadra che approderà in semifinale.